Ora la pagina della pallavolo in Serie A2, domenica di riposo per la Siego in Paiva d'Ortona che ieri non è scesa in campo in quanto la sfida casalinga contro Taranto è stata rinviata per diversi casi di Covid registrati nella formazione pugliese. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A3, l'Abba Pineto Volley centra l'undicesima vittoria di fila vincendo 3-0, state vedendo alcune immagini in casa contro Roma, pur orfana di un tassello importantissimo come Morelli. Dopo il primo set è chiusosi 25-17 per i padroni di casa, nel secondo periodo sono sempre i biancazzuri a condurre le danze vincendolo per 25-16. Il terzo set trova sempre una grande prestazione dei biancazzuri che chiudono la contesa vincendo 25-17 e, come detto, inanellando l'undicesima vittoria di fila. I punti in doppia cifra per Pineto, Cattaneo 14 e Zornetta 10. Domenica prossima alle 18, trasferta insidiosa in casa di una Versa Normanna in Serie Utile da quattro turni.